Allora, dopo gara del primo turno della Coppa Provincia della Dina, stagione 2017-2018, è un po' difficile iniziare, però lo facciamo anche per gli onori di casa da parte del Cori Montilepini. Veramente una stagione dannata per la zona pontina, è una bestia nera questa formazione lepina. Sì, quest'anno sì, l'anno scorso abbiamo vinto due volte su due con loro, quest'anno invece tutte e tre le partite abbiamo dovuto subire e anche penso meritatamente in tutte e tre le partite. Quindi onore a loro che hanno meritatamente passato il turno, hanno dimostrato di avere qualcosa in più di noi sicuramente. Allora, mister Di Cesare, però tra le tre partite ci sembra che quella di questa sera sia stata un po' affrontata in tono minore rispetto alle altre due, perché in campionato, sì è vero, c'è stata la battuta per 5-1 qui a Cori, poi nella replica un 7-6, però voi se non altro avete dimostrato di poter riprendere la partita. Questa sera un po' con tono è mancato forse qualcosina in più. No, non lo so, sono state due partite diverse. Il 5-1 dell'andata è stato un 5-1 molto falso perché potevano vincere molto più facilmente loro. Il 7-6 del ritorno è stata una partita molto strana, questa è stata una partita un po' più chiusa, un po' più bloccata, anche perché comunque era un play-off, quindi sicuramente il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato. loro hanno giocato meglio il pallone, però noi avevamo comunque tenuto bene e abbiamo rischiato poco. Avevate tenuto bene e tra l'altro eravate molto incisivi per quanto riguardava le ripartenze, che era il problema maggiore per loro. Sì, sì, sì. Poi purtroppo secondo tempo abbiamo iniziato, come dici tu, un po' più bassi, un po' più contratti e loro ci hanno punito e poi comunque diventa difficile riuscire a riportare la partita in parità. In qualche occasione ce l'abbiamo avuto sul 2-0, potevamo riaprire la partita, però è proprio un leitmotiv di quest'anno, facciamo fatica davanti alla porta a concretizzare. Quindi si poteva riaprire sul 2-0 la partita, abbiamo avuto due o tre occasioni, poi non l'abbiamo sfruttata e lì poi giustamente loro ci hanno punito e hanno concluso meritatamente. Allora, rapidamente e soprattutto schietta la risposta. Sappiamo che è stata solo giocata questa partita, domani si proseguirà, ma chi potrebbe essere la squadra che se non altro andrà a raccogliere l'eredità del Latina Scalo dell'anno scorso, lo ricordiamo, la squadra vincitrice della passata stagione? Allora io credo che il Fondi, cioè il Pirata, sia un gradino superiore a tutte le altre. Secondo me loro, il Cori, può giocarsi, è una squadra che può vincere con tutti. Però il favorito secondo me rimane il Pirata. Bene, grazie a Davide Di Cesare, anche se gli chiediamo cortesemente anche di restare e soprattutto sentire le impressioni di uno dei protagonisti, Marco Merangoli, che tra l'altro sbaglia un calcio di rigore, poi si trova al momento opportuno per mandare dentro il pallone, gioia per Cori Montilepini e tra l'altro poi prima che finisce la partita riesce anche a bissare. Sì, no niente, quando sbaglio il rigore comunque c'è sempre, la persona può demoralizzarsi, però devi rimanere concentrato e comunque io comunque adesso, avendo comunque 37 anni, ho la consapevolezza che quando mi capito l'occasione non segno, quindi sono rimasto freddo e alla minima occasione ho fatto gol. Merangoli, ma che cosa si prova quando si è sul dischetto del calcio di rigore? Proprio le distanze si accorciano rispetto a quelle del tiro libero, ma davanti che cosa si vede? No niente, io so comunque che il portiere loro è molto bravo, quindi ho cercato di piazzarla, ma lui è stato, secondo me è stato anche bravo, comunque ha preso una bella palla, anche perché la palla era forte, quindi è riuscito comunque a prenderla. Ecco, tra i gol che avete messo a segno questa sera, un poker netto, qual è sinceramente il gol che ti è piaciuto di più? Il gol che mi è piaciuto di più secondo me è stato quello di Edoardo, perché è il primo gol di Edoardo, perché comunque se lo merita, è un ragazzo che quest'anno ci ha dato comunque una mano, ci fa crescere sempre di più e noi comunque siamo una squadra, una bella squadra che deve diventare, siamo un bel gruppo che deve diventare una bella squadra. Beh, lui questo lavoro lo ha iniziato diciamo tre anni fa, un po' in sordina, silenzioso, da dietro, la rete era un ragazzo che vi aiutava, un amico di squadra, un amico che vive con voi anche il resto delle giornate fuori dal campo, è un'importanza perché quest'anno non possiamo dimenticare che più di qualcuno, con la precisione in quattro avete praticamente varcato la soglia dei venticol. Sì, 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 io ho accettato questa proposta che mi ha fatto Edoardo insieme a Simone Rizzo e altri, insomma i due o tre vecchietti della... Grande assente questa sera per un guaio muscolare. Sì, in poche parole siamo stati, cioè quest'anno è stato veramente bello, io sinceramente mi sono divertito molto e ho visto proprio che grazie a questi innesti che ci sono stati quest'anno, comunque il gruppo già c'era, un grande gruppo, si è amalgamato ancora di più e comunque speriamo di toglierci altre soddisfazioni. Beh, allora in termini di vecchietti facciamoci adesso una battuta finale, noi ne abbiamo un altro anche se lui scherzosamente accetta, te lo porteresti, gli faresti questa proposta nel venire in questo contesto, anche se lui è di Latina insomma. E certo, perché no? Siete tutti... potete venire tutti insomma. Bene, e su queste battute finisce quindi la prima giornata, il primo turno, Corri e Montilebbini batte Zona Pontina 4 a 0.